Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video degli Happy Us, io sono Davis e lei è mia mamma. Ciao a tutti, benvenuti. Allora, Davis, cosa facciamo a vedere oggi ai nostri amici, oppure cosa raccontiamo? Io non faccio vedere niente, perché è mezzanotte. Eh, ho capito, allora cosa abbiamo... Sono mezzanotte e quaranta, quasi l'una. E allora perché abbiamo cominciato questo video? Eh, se io vado a dormire, fai tu il video. Va bene, buonanotte. Io vado sul divano. Racconto io qualcosa ai nostri amici. Ciao ragazzi, ci vediamo domani con un prossimo video. Allora, intanto, mentre Davis dorme, noi ci divertiamo. Che bello, finalmente, ho tutto il tempo per parlare, che di solito parla sempre lui, decide sempre lui. Facciamo questo, facciamo quell'altro. Vedete che c'è Ariel. Guardate, che intanto si fa il giro della casa. Ariel. Ma io sento russare. Ariel, sei tu? No, perché Ariel cammina. Che c'è Ariel? Cosa c'è? Vuole uscire. Ma io sento Davis russare. È possibile che si sia già addormentato? È vero che è tardi. Però, andiamo a vedere. Spiamo Davis. Eccolo qua. Guardate come dorme russa. I piedi non muzzoletti. No, no, no. I piedi non muzzoletti. Lasciami stare. Sei molto muzzoso. Mamma mia, adesso cade. Sta facendo un brutto sogno. Aiuto. Speriamo che non diventi sonnambolo. Adesso facciamo una cosa. Io sono capace di fare una cosa. Io riesco a guardare cosa gli sogno. Facciamolo insieme. Vediamo se riesco a farlo anche con voi. Avviciniamoci al suo cervello. Col telefonino. E rubiamo l'immagine del sogno. Lasciami stare, per favore. Dai, sei molto puzzoso. Lasciami stare, per favore. Che puzzo! Ariel, aiutami tu! Che puzzo! Il piede non ha puzzoletti! Proprio. Basta, mi tolgo la ciabatta. Avete visto, ragazzi? Stava facendo un incubo perché sognava di avere vicino a lui questo piede puzzolente. Ma avete visto che piede è? Ma che sogni strani fa quel bambino! Vediamo adesso se sta continuando a dormire e se è finito quell'incubo del piede puzzolente. E' un pozzo! Quasi quasi mi sveglio. Almeno lo distorgo da questo incontro. Devis, Devis, sveglia, Puccettino, eccoci, ti stavamo guardando, e dov'è il piedino puzzolente? Ma era un brutto sogno, avevi sognato il piede puzzolente, che tu sentivi un brutto odore, un cattino odore, eri spaventato da questo piede puzzolente, ma che sogni fai? Eccolo, eccolo, ma questo è il tuo, dai, è il mio, giusto, mi sa che i peperoni di sera non fanno bene, a cena i peperoni no, perché poi non li digerisci bene e sogni il piede puzzolente, è vero, ho sognato, cioè, ho mangiato i peperoni a cena, e adesso cosa vuoi sognare? Oh no, si sta addormentando di nuovo, speriamo che non faccia altri sogni brutti, chissà se fa il sondamento, speriamo che non lo so, vi ricordate l'altra volta che faceva finta di mangiare la Nutella, aveva preso il telecomando pensando che fosse il cucchiaino? Nutella, 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 Piano, Davies, sveglia, 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 Davies, sveglia, Davies, piano, Nutella, non è la Nutella, è il gatto, Davies, è un vaso da 3 kg anzi 10 kg sveglia Davis c'è anche Are che ti sta chiamando e uno e due sveglia eccoci qua Davis hai fatto un altro sogno però questa volta non era il piede puzzolente era la Nutella perché sei sonnambulo un'altra volta l'hai fatto ciao Ariel stai sognando anche tu un topolino? eh forse guardate sta cercando qualcosa sotto la porta e niente amici queste sono le nottate pazze di Eppiasa il piede puzzolente la Nutella che non esiste eh sì e sì ma adesso andiamo a dormire e fare dei sogni se li dobbiamo fare almeno normali oppure belli sogniamo di stare in un'isola tropicale è vero dove c'è tanto caldo con quel mare cristallino turchese sì sì io e te che ci tuffiamo ah che so un buon cocktail sì 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 tu è un alcolico ovviamente e anche io vabbè va bene salutiamo i nostri amici che devono andare ciao a fare la nanna ciao a tutti a presto ah ma tu sei qua ma Davis ma quanto sei distratto eh un sonno guam 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 ciao ragazzi ciao a tutti 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 ciao a tutti